Un incontro affollato che ha seguito l'appello contenuto in una lettera dei parroci del Basso Molise e rivolto a tutte le istituzioni. Fare qualcosa di concreto per mettere a posto le strade del territorio, assicurando risorse adeguate e interventi precisi che vadano oltre le pezze sull'asfalto e qualche misura tampone. Un invito condiviso e ribadito a Mafalda ai rappresentanti del governo regionale della provincia di Campobasso, al fine di un cambio di passo sui fondi, i tempi dei lavori e i progetti destinati da destinare a un'area che deve fare i conti con lo spopolamento e il lavoro che non c'è e dipende anche da collegamenti efficienti e veloci. C'è un degrado generalizzato per quanto riguarda le strade. Sappiamo che senza le strade siamo morti. Il presente è molto faticoso e il futuro non lo vediamo perché senza le strade come si fa a vivere, specialmente in questa nostra zona. Le strade garantiscono tutto, il lavoro, la sanità, l'istruzione, la cultura, il turismo e tutto il resto. Noi parliamo sempre della 163, una strada importantissima, quella che va da Civita Campomarano a Montenero e addirittura l'altra che va dal Fondo Valle Trigno a Montenero. Abbiamo visto e abbiamo dovuto sopperire anche, adesso che c'è stata l'interruzione della Trignina, tutto il traffico si è veicolato su questa strada. Risorse ridotte a lumicino per la provincia che, come evidenziato dal Presidente Rosario De Matteis, sono state investite anche in questa zona. Secondo l'assessore regionale ai trasporti, Pierpaolo Nagni, bisogna individuare le priorità con la consapevolezza che le somme stanziate non sono sufficienti a tranquillizzare un'area che paga le fragilità del territorio e serve dunque collaborazione tra gli amministratori, strade che gli stessi rappresentanti regionali hanno dovuto percorrere per raggiungere Mafalda e un problema annoso che resta sotto gli occhi di tutti. Al di là degli annunci e delle prese d'impegno, servono ora interventi concreti per evitare che anche un'ambulanza sia costretta a superare un percorso ad ostacoli prima di raggiungere l'ospedale più vicino.